una nuova realtà. Per i quattro artisti che vi presento stasera, Nunzia Melone, che non è ancora presente, Giuseppe Lagatta, Sonia Artieri e Anna Maria Vallano, è importante trasmettere l'euforia della reazione quando luce e colore si uniscono e si è testimoni della trasformazione di una tela bianca in un nuovo mondo da poter raccontare. Allora, siamo arrivati? No, è stato arrivato. Così facciamo.